Ciao a tutti ragazzi! Super bentornati sul mio canale! Io sono Cecilia di FashionedItalia.com e corso di cucina per cani.it e oggi sto girando questo video per parlarvi dei 10 regali di Natale che sicuramente piaceranno al tuo amico 4 zampe quindi se hai un cagnolino e ti stai domandando cosa regalarmi per Natale o se comunque hai un amico che ha un cane e vuoi fare un pensierino anche a lui guarda questo video e appunto spero che ti piacciono le idee che ho avuto per questo Natale e state con me! L'ombrello per il cane, un'ottima idea regalo per chi ama le passeggiate anche sotto la pioggia La pet camera, quando non siete in casa potete guardare il vostro amico 4 zampe tramite il vostro smartphone e fornirgli dei croccantini come premio i baffi giocattolo sono divertentissimi il cane morderà la pallina e quel che si vedrà dall'esterno sono ovviamente i baffi potrete fare tante foto divertenti con lui un divano per il cane è una meravigliosa idea per i cani più poltroni che amano il relax e così eviterete che il divano di casa vostra sia sempre occupato dal cane un maglioncino natalizio è un'idea dolcissima per gli amanti del Natale una tazza con la scritta qualsiasi cosa ha un sapore migliore con i peli del cane un cuscino a forma di cane è ottimo sia per gli amanti dei cani sia per i cani appunto più pigri che adorano dormire sul divano e poggiano la loro testa sui cuscini e per quelli ancora più coccoloni ecco la copertina anch'essa con un cuscino a forma di testa di cane per gli appassionati di cucina gli stampini a forma di zampa e poi ovviamente il mio corso di cucina per cani online che è un'ottima idea regalo per i proprietari di cani in quanto all'interno c'è ovviamente un ricettario online sempre aggiornato con ricette sfiziose spero che questo video vi sia stato utile e che abbiate trovato qualche spunto interessante per fare un regalo simpatico al vostro cagnolino e se già avete avuto qualche idea o comunque appunto avete pensato già a qualcosa fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa volete regalare al vostro amico quattro zampe e poi mi raccomando una volta scattato il regalo sotto l'albero condividete la foto del regalo col vostro cane sulla pagina facebook di Fashion Dog Italia vi metto il link in descrizione per chi non fosse già iscritto può andare lì e iscriversi così da guardare tutte le novità che pubblico sempre grazie a tutti allora vi chiedo di zampare un like, iscrivervi al canale e di condividere sui vostri social questo video se vi è piaciuto ciao al prossimo video